bravo amore siamo i genitori dell'anno dell'anno e cosa accadete siamo i genitori dell'anno hanno siamo pronti tu sei pronto giocare nascondino della paura mi senti ecco io parlo così perché io dico la livi che quando lei si nasconde io mi trasformo in quella strega di Buongiorno mio spasarino Buongiorno mio spasarino Andiamo a lavare i dentini Ho pulito tutto perché c'erano le formiche Uh grazie Andiamo a lavare i dentini Vuoi il coronavirus sul dente? Come on Lavare i dentini Vai Anda se no altro che batteri Ok andiamo a mangiare allora Vieni You gotta work with me here Come on Andiamo a mangiare No Robby Spiace perché Giro Ci porta tanti regali Con nonno si gioca Siete pronti? Ok Che stella sei Un tantito in mezzo a te Che Igltaro In mezzo Parva I cui parme I cui parme è il mondo più bello del mondo che sia sigla ma dai mi state prendendo per il culo io non ci credo io aspetterei tornare alla realtà è vero che in questo periodo ci fermiamo e pensiamo bene a diverse cose però è tutto molto esaltato tutto molto amplificato in questo periodo